Quelle urla ripetute hanno insospettito i vicini, in quella casa di riposo non filava tutto liscio. Siamo a Ragusa, in una delle tante residenze per anziani. La denuncia ha attivato la polizia che ha scoperto l'ennesimo caso di maltrattamenti. Grazie alle telecamere è stato accertato che il personale, formato soprattutto da donne, derideva gli ospiti, li spintonava, li insultava, li umiliava ogni giorno. Per gli investigatori è stato difficile resistere alle continue richieste di aiuto che venivano di nascosto formulate. Era necessario raccogliere prove schiaccianti. Quando questo è avvenuto, sono state arrestate due persone ed una terza è stata sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione in questura. Atti ripugnanti su tutti questo. Una donna malata di Alzheimer voleva solo andare in bagno e per tutta risposta all'indomani mattina veniva insultata per aver disturbato il sonno di chi doveva assisterle.